Siamo arrivati all'ultimo gruppo, signori, in conto che soltanto due gruppi su oltre avranno la possibilità di riedibirsi alla finale il 29 maggio a stazione Binna loro sono i tracchialosi e facciamo un grandissimo applauso! Cinque cavalli ubriachi si incontrano in una copita di un sound ispirato a Rocca di 70 con solità energiche e sensuali create appositamente per questi uomini che è bellissime! Wuh, da mancarlo! Vai! Ma riprendiamo! Vai! Vai! Voi! Tornare! Voi! Tornare! Voi! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti